La nostra siena della piazza del campo c'è la siena, siena, siena! La palla con i pugni all'interno della parte di Andriaporta che ha qualcosa che non impresso in giro. L'apertura delle parti di Ruffini spesso, stop a seguire Migliorchi in area. Lui titoneva, doppia zanis, carico per Lombardi, unicinistro, circa a seguire calzomagno. Il scelta, sconcettare, vado in sapore, e la sfera, si è un po' e si incordi, la piazza, Roma, l'artigone contro Ruffini, dice il primo più forte, non quello che dice Angeli. Il servizio è 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 il servizio. Il servizio è 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 il servizio. Palle Fontanelli, chiude la via con un gol di Amarcanetti e al 17. Sessori, Cattolini, Cattolini e Sessori, Cattolini e Sessori. Palla, profondità, esce un modulo e la domandola. Quando l'avviso in qualche modo, prova Barcini. Uffini serve Cacciamalli, dedicato a Tempetti a하세요 per la lavoro al limite del marco. Non si tratta, un secondo palo Fontanelli, smanaccia, veramente a profusione in disposizione Mister del piano. Poi Calandra sale sulla destra, contro lui Baruti entra in area, Calandra, Puntanella smaraccia. Puntanella smaraccia. Puntanella a quattro fermato da Chiavini a destra. C'è la combinazione di Ruzio per Rezzani. Ecco, è su Caldella! MPC! Puntanella, Scecocetti e Giova Rendino. Fuori anche Porta Cora. Teppone Giova! Detta! Il ruolo tra conti le due risposte da Puntanella a Porta Cora. In qualche modo disturma il� Proscen. Legge di Russo. Si fa vedere? Ci fa sì di come Russo! Che Pintanella! Grazie a tutti. Grazie a tutti.